E benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo in compagnia di Sparklight Un gioco molto, molto interessante Che stiamo vedendo in anteprima perché deve ancora uscire L'embargo è il 12, quindi voi questo video lo vedrete il 12, io lo sto registrando il 9 Promette veramente molto, molto bene Il gioco è stato pensato per essere, ovviamente l'italiano neanche a pagarlo Per essere giocato col controller, io proverò a giocarci con tastiera e mouse Così vi dirò anche le mie impressioni Video on, brightness, audio Allora, il gioco è in beta in questo momento, cioè a noi ci hanno mandato una beta Quindi, se vedete delle cose strane, probabilmente verranno fixate con la release finale Che è tra pochi giorni, uscirà sia per Switch, sia per PC, sia per console, per altre console Io ci sto giocando su PC e se mi piacerà il gioco lo prenderò assolutissimamente per Switch Perché secondo me promette molto, ma molto, ma molto bene Start a new game Vediamo un po' di che si tratta Già lo stile grafico ragazzi, cioè che ve lo dico a fare? Che ve lo dico a fare ragazzi? Sapete benissimo che io per questi giochi qua C'ho proprio un debole Allora, il nostro personaggio è un meccanico Tra le caratteristiche che, intanto voi vi leggete, io parlo Tra le caratteristiche che trovano questo gioco Che trovo questo gioco è che, a quanto ho capito A quanto ho capito Ci sono degli enigmi E per risolverli C'è bisogno di inventare delle cose Però non è che Ripeto, sempre a quanto ho capito Perché è la prima volta che ci sto giocando Non è che voi andate lì e Dice no, per fare questo devi fare questo Questo prodotto Questo strumento Tu vai lì E c'è, crea strumento No, lo devi inventare tu Non so come funziona questa meccanica Vediamo se effettivamente è così Allora, controlli classici Perfetto Io credo che sia giocabilissimo con tastiere e mouse La tizia picchia nella direzione della freccetta Quindi ok Perfetto Nice work, grazie Yikes Ok, dobbiamo martellare questo chiodo Perché altrimenti la... Come si martella? Ok, tab Gadget Come si martella? Charge up Ok, perfetto Perfetto Quindi dobbiamo ricaricare E spariamo con la martellata Oh Ops E questo è un problema Ah, possiamo fare una dash Ok Non lo spiega però Me ne sto inventando io i controlli in realtà Graficamente già mi piace da morire ragazzi Che devo fa? Che devo fa? Non ho letto Inspect space Questo amuleto Ok Ok, la generazione ce lo passiamo Ah, devo premere questo Madonna santa Quanto sei imbecille Ok, qui c'è una botola Ok, come on Va bene Ops Oh no C'è qualcosa che Che non va Non c'è tempo Vai, premilo tu bello E io vado Senza di te Oh Addio Allora, noi ci chiamiamo Ada Ci chiamiamo Ada Ok Addio mio piccolo amico Capsula di salvataggio Ok Ok, vediamo se Troviamo qualcosa in mezzo Ai cosi alla Zelda Mamma mia che bello Graficamente ragazzi È bellissimo Qui c'è una sorta di Angeon Ok Non credo serva a nulla A rompere l'erba Qui ci sono dei tipo pezzi di metallo Qui c'è un qualcosa di Che se è rot Oh, il mio amuleto Ok Perfetto Ok, vediamo se si è aperto qui Ah, il nostro amuleto È a forma di questo Quindi, caso strano Caso strano Il nostro amuleto aprirà Questa roba Che non so cosa sia Se è un dungeon O no O quello che è Bensiamo un po' l'audio Perché forse è un po' alto Uh Spark slinger A spark light Io non so che cos'è questo spark light Tensioner cobblet together with spare parts from your pockets It's a little rickety 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 What are you doing? E pinch Ok Non ho capito Non ho letto in realtà Però vabbè Ok Questa era facile Bellina anche la musica Adesso possiamo alzare Secondo me Ok Che succede se faccio così? Uno, due e tre Ok Quindi non serve Che stanno girati Dal lato nostro No Ok Vabbè Questi sono facili Perché ragazzi Siamo all'inizio del gioco Replace Ok Io posso Non me li ho tolto Però così Ah Ho fatto il reverse engineering Del Ah Lo possiamo assemblare Che figata Figata Lo possiamo assemblare nel workshop Ok Fortunatamente ha smesso di piovere Quindi non abbiamo più quell'attacco Ok Che sono questi? Ah Questi sono gli spark light Ah Sarebbe la La moneta Sarebbe la Come si chiama? Vabbè Le monete Insomma Questi servono a qualcosa Madonna Quanto è bello Raga Mi gusta un sacco Mi gusta un sacco Talk space boy I'm glad to see another person Ok Never seen anything like that Ok Mi sa che questo qua È stato causato Dai Vermi I Dremors Floating city Ok Ok Dobbiamo trovare Su widget bag A sud A sud est C'è un campo di gremlin Quindi sud est Andiamo di qua Come facciamo a superare Sta roba? Ah così Io pensavo che fosse Oh strunze Minchia Questo è il campo di gremlin Di gremlin Uno C'è roba qui? No No raga Questo è switch Questo proprio Questo è il gioco da switch In assoluto Questa roba Ah ok Mi dà degli spark light Ce ne abbiamo 69 Widget bag Ok Ma quindi questo Mi rallenta solo Sta roba Ok Io pensavo fosse dannosa Tieni Tieni bello Tieni Secondo me Controlli quella tastiera Però sono meno peggio Di quello che pensassi Ok Mi ha dato un esplosivo Ok Quindi con l'esplosivo Come facciamo a metterlo Q Ok No Devo lasciare premuto Ok Via A post A po Dobbiamo vedere Se riusciamo a raggiungere Questa città volante Mazza One shot proprio Aspetta Aspetta Io vedo del Delle cose blu qui Fammi vedere se ci ho visto bene E ci ho visto bene Ma solo tre Vabbè Stiamo andando in una Mina Ok Quindi rompere le cose È una cosa Ma qui ci sono i spark Non credo che Piazzare degli esplosivi Mi convenga Anche perché Ce ne abbiamo solo uno Quindi Non mi va di Di romperlo Uh Il nostro amichetto He shouldn't be here He's too strong for you Chi? Ecco il boss Vai Oh no Get out Minchia Ma è meccanico Boris Tunneling Titan Ok Vediamo qual è il suo pattern E la miseria Ok Quindi quella è una sorta di Ah ma lì c'è un tizio Non l'avevo visto io Conviene dargli la botta A voglia Però me l'ha data a me la botta Perfetto Non è andata benissimo Ma che è? Il giochetto vuole mettere i soldi E prendere No Mi è caduta un Mi è caduta una bomba Perché siamo qui? Ah ok Quindi era 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 da fare sta roba Cioè era così Non era fattibile il boss Però secondo me Forse era fattibile Ok Quello era un titano Ok Io ho premuto yes Senza neanche se leggere Ah Ha funzionato Multi tool With the patch board We also need this Maximum health Ok Ok Sono i pezzi Framenti di cuore Classico But if you want more patches You're gonna need more spark light Ok Vuole i soldi questo Ok Allora Bronze max energy patch Multi tool damage patch E bronze resilience patch Ok Questo ci da Mi sa Quattro di questi ci danno un cuore Questo ci da Più energia C'è un'energia da qualche parte Non la vedo E questo Multi tool damage patch Ah eccolo Increase Wrench and hammer damage By small amount Ok Mentre questo Maximum storage energy Multi tool machine In the medical facility Ok Questo che ci posso fare qui Discovery patches Maximum health Please Quindi Lo lasciamo lì Cos'è? Ah la mappa Che bella la mappa E poi abbiamo sti gadget Che però non so come fare In realtà Ah me l'ha dato il cuore Eccolo Figata Allora Upgrade medical facility Questa che vuole? Refugee Chief engineer Non ha parlato Da quando Bla bla Ok Però in realtà Noi potremmo comprare Un altro cuore Io questa energy Non so che cosa fa Compriamo questo Quindi io faccio così Lo metto Li posso fondere Fuse space Ah però Non posso farlo Però me l'ha dato Ok Cerchiamo di capire Un po' come funziona Ovviamente ragazzi Qua siamo all'inizio Quindi siamo in fase Di tutorial In fase di Questo gioco promette Molto molto bene Molto bene Workshop Ah ok Per il workshop Vuole Gli spark light Ok All aboard Ma Io direi di no Perché Ah queste sono Le cittavolanti In realtà Cioè io sono arrivato Qua morendo Bene Qui che c'è? Offside Limitation Acid Vogue Professore Ok Il professore sta fuori A fare degli studi Tu che fai? Ecco Te l'ho trovato io It's a bit Wasn't the happiest sound In the world But Ok Che fanno questi cosi? Quindi devo trovare Sti cosetti qua E adesso comincerò A rompere tutto Ok Questo non si rompe Questo E quindi Ma paretto Vabbè poi li completeremo Prima o poi Insomma Allora Noi possiamo scendere qua Ah no Qua si costruisce Il workshop Mi servono 100 spark light Invece qua Costruiamo forse Il widget shop Ok Perfetto E qua Immagino Che andremo All'avventura Vediamo Molto carino Molto molto carino Per risalire su Ah per risalire su A quanto ho letto Nelle istruzioni Diciamo Che ci hanno inviato Bisogna morire E salva Salva quando morite Insomma Allora io voglio capire una cosa La mappa Ok Questa è la mappa Sarei curioso di capire Se è roguelike Ma non credo Cioè Non lo so in realtà Perché non era specificato Guarda sto stronzo Guardalo Ma che è sonic No è forte perché Quando lo picchi Praticamente va Si sposta pure il buco Ok io non ho Le rocce le posso rompere Quelle piccole perlomeno Sì Quelle grandi Quelle grandi no Ok Si sposta pure il buco Io sta cosa Non la posso guardare Mi sono fatto prendere Come un deficiente Io sarei curioso Di capire se Le mappe sono Se le mappe sono Casuali Ma mi sa di sì Oh tu devi morire Ok stiamo recuperando Un po' di spark light Ok Che cos'è sta roba Acid bugs No Ma cazzo Io non volevo entrare Non volevo entrare Via via Ok andiamo di qua Di qua non ci possiamo andare Eh questa sarebbe Da far scoppiare Orchè miseria Ah questi rigrescono Ok E possiamo entrare Nel dungeon Vero? Si Però non Non credo Che ci conviene Tanto eh Si no ragazzi Secondo me È roguelike Secondo me Uh Boom balloon Lo posso usare Col tasto destro Ma non so Che cosa fa Ok Ma non c'è Arriva lì Ok lo posso Far esplodere Prima però Volendo No cazzo Bene Come ci arrivo lì? Tanto c'ho già L'energia Che sta per schiattare Ok Secondo me Non ci arrivo lì Ma posso uscire? Replace Lo rimetto E posso uscire Ok Secondo me Mi manca qualcosina Per fare questo lavoro Oppure Non è lo strumento giusto Però per guadagnarmi Quello strumento A quanto ho capito Devo superare Il dungeon Ottima La cosa Che non rincompaiono I mostri Dal nulla Se io Un quadro L'ho già Cioè Un'area L'ho già pulita No Piato danno Non ci sto credendo Non è così difficile Prendere danno In sto gioco Siamo a 57 Oh No vabbè Mi sono incartato Quei comandi Eh ma ci vuole Il controller Ma tu me la rompi La cosa No Peccato No Così proprio 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 Morti così Allora ragazzi Se volete vedere Altri gameplay Di questo Magnifico gioco Veramente Magnifico Sapete che io Per questi giochi qui Esco veramente pazzo Mi piace Da morire Ma li ho mantenuti I soldi Sì 63 Perfetto Allora funziona Il classico gioco Che io devo andare giù E devo vedere se Se la mappa Cambia o meno Io lo devo fare Ragazzi Perché altrimenti Non dormo Vediamo un po' Eh però Chi cazzarola Se la ricorda Allora Questa parte è uguale Eh no È diversa ragazzi È diversa È diversa Perché sta roba Non c'era prima Questo però Me lo ricordo Che coglione Guarda Sto cercando Di capire Allora Noi avevamo visto Una cosa simile No 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 È diversa È diversa Figata ragazzi Oh Che abbiamo trovato String Stringence Stringence Your effort Giving a bonus To the damage You deal for a short duration Ok Quindi Facciamo più danno Mi sta venendo in mente Il discorso Del fatto di Per superare Gli enigmi Bisogna ingegnarsi E stavo pensando Se noi prendiamo Per esempio Quella specie di dirigibile Con la bomba E gli aggiungiamo Che ne so Più potenza All'elica O un'altra elica Magari arriva più lontano E riesce a rompere quel pezzo Quindi sto pensando Come funziona il workshop Se volete scoprire Come funziona il workshop Mettete tanti like Somma soprattutto Commentate sotto questo video Ragazzi è importante Mettere i commenti Anche se sembra una cazzata È veramente importante Perché Crea coinvolgimento Per Per Gli algoritmi Di youtube Noi ci vediamo Al prossimo video Spero che vi sia piaciuta Quest'anteprima A me è piaciuta tantissimo Io adoro Questo genere di giochi Quindi adesso Quitto il gioco E noi ci vediamo Al prossimo video A me è piaciuta tantissimo A me è piaciuta tantissimo